Quindi se ne va in lobby Quando ti fanno un jump ne fa uno in più Per ogni morto Oppure prova Wesker anche Wesker lo vedi subito Lo noterai subito Penso che sia la patch con più bug Gameplay issues Rovina gameplay Ah aspetta adesso ti faccio sentire un altro bug Perché Tra le tante cose Questa qua nessuno ne ha parlato A parte che la caudia è microscopico Degli incantesimi del liceo Che non erano così piccoli Ma a parte questo Ma sentite che bel bug Ehi sto arrivando Stavo evocando gli scoletri Nel senso Un po' più forte Potevano anche io non farlo Ehi ciao Alan Stavo per salire sul pallet Secondo me c'è un bug Per salire sul pallet Oddio ci sono ma... No devo fare un test Ci sono mappe dove puoi salire sul pallet In teoria Tipo quella del knife Se non ricordo male Se io mi metto sopra un pallet E poi lo alzo Cosa succede? Devo provare Ho bisogno di un serve dopo raga Che vuoi non custom? Ma che mi combina mamma mia Lascia stare Lascia stare Lascia stare guarda Ho messo qualcuno lì Adesso se vuoi Vai vai Ho mancato Ma va Mi sento Io ho scoperto Non bagco la legge Se volete lo faccio vedere In privato Su the game si fa Va bene Grazie dell'abbonamento regalato Gentilissimo Caro Agilità Ah immaginavo agilità Volo per Delle distanze Ah non sono riuscito A bodyguard carro Peccato Qua su Su però in teoria Per me va benissimo Perché adesso che sono Sulle scale qua E' barfazza morto Non può adoggiarlo A meno che non ci passava In mezzo Però hanno fatto zero Hanno fatto zero Genno What the fuck Vale uno scourge Però Scourge luck Pare a zero Sono tutti negli angoli Di mappa Deve costruire Sulla cisterna Del sangue Dei maiali Beh ma Parlando di bug Mi è successo Col serve Col perk di Lara Mi sono incastrato Nel muro Nel pallet Non potevo più Andare avanti Sì ma così Gli avvisa letteralmente Un chilometro Prima che la sto usando Cioè non vale Sta roba Non so se ce la faccio Non ce l'ho fatta Nice Cioè lo stanno Paledemente comprendendo Questo Ah dove ti trovi Giù Ok ho capito Mi hanno ruvato l'occhio La bia c'è molto brava A fare animazione Tutti ricordano la PDB Quella del DS Ah ma no Erano le Beh Ah sì Ogni tanto Mentre sei al gancho Vai in t-pose A casissimo Così Giusto per Speravo che venisse di qua E ho tutto un cd Sfondatamente Mi hanno capito La parte Prendi questo killer Il pungiglione Ma è un coltello La vespa liccia Coltello pungiglione Non lo so Rick Non lo so Ma ci non cazzo Si sono Comunque A me non mi sembra Comunque Matt Mersa No Ci mettono sei ore A partire Gli ho visti Una volta Non erano così lenti A partire Gli hanno buggati Ma c'ha 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 La dogna Gli è andata fuori Di testa Un po' Tanto il do Ha tratto Quell'uomo Sarà andato No No Sì Sempre meglio Chi do A tra Dei tiktoker Che fanno Fra 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 Diciamo che In realtà Il problema Di Matt Merser È che Ha rovinato Un po' Quello che è D&D Secondo me Perché tutti Perché tutti si aspettano Il D&D Di Matt Merser Che è Fatto da una persona Che lo fa per lavoro In pratica E un po' Ha rovinato gli standard Soprattutto quelli online Live NPC Ma ci sono ancora Le live NPC Esistono ancora Quelle schifezze Lì Andrea Grazie del follo Benvenuto ai serpentelli Spero che ti trovi Bene qui con noi Immagino Immagino ancora Sì ma molto meno Contra quelle che fanno Più soldi Sì ma ancora No magari un po' Improvvisato lo è Però comunque C'era un po' Ecco Vuoi vedere una cosa divertente Ok guarda adesso Mancano 3 gen Adesso non mi interessa Di vincere Ma guarda adesso Mancano 3 gen Se adesso quei due Quittano Uno ha quittato Se trovo l'ultima Gli dico di fare il gen No 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 Il ceso mi fa sentire Dov'è andata Vedi i due hanno quittato Dai su Vieni qua Rebecca Vai a fare il gen Ma vedi te Se devo andare a prenderla Per dirgli di fare il gen Ma porca miseria Non mi ha fatto mancarlo Non mi ha fatto mancarlo Ah vediamo se lo capisce però Mi stai all'alto Ahhhh 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 Eh guardate eh Per chi non sapesse questo bellissimo bug Guardate in basso senso manca un 3 gen Adesso immagino il bug non funziona Guarda i miei 3 gen Bello eh Bello eh Bello questo gioco eh Come hai detto che funziona Praticamente Chi muore O in generale chi muore Se non rimane in spectate E se ne va Per ogni persona che ha quittato Quando qualcuno completa un gen Ne completa un aggiuntivo Andando quello boh chissà dove cazzo l'ho slagato per 4 minuti poverino Ottimo modo per non giocare kill esatto capito Ghidan Ma grazie del ride Buonasera ragazzuoli Come state Ciao ragazzi buonasera state giocando Overwatch Buonasera buonasera boys grazie del ride Pasta a tre già Sì